Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo Acquisti Manga, il terzo di dicembre. Ci avviciniamo sempre di più alla fine dell'anno, gli acquisti di questa settimana sono abbastanza tranquilli. C'è comunque qualcosa di particolare che vi andrò a mostrare anche per quanto riguarda i recuperi. Come sempre il pacco da Manga.io con il codice sconto STAB riceverete il 5% di sconto in fase d'acquisto grazie a tutti quelli che ogni volta mi supportano utilizzandolo. E dato che oggi siamo proprio alla vigilia ci tengo a fare gli auguri di buone feste, di buon Natale a tutte le persone che stessero guardando il video. Ma direi di non perdere altro tempo e di partire dagli acquisti della settimana e iniziamo con Star Comics. Partiamo con il volume 24 di Shirayuki dai capelli rossi, volume molto interessante anche per un colpo di scena enorme che cambia delle carte all'interno del manga, sono davvero curioso di vedere l'impronta che andrà a prendere con questa saga Shirayuki. Complimenti anche all'autrice sorata Akiduki che sta migliorando sempre di più per quanto riguarda il suo stile di disegno di capitolo in capitolo, di volume in volume, un grado di maturazione artistico davvero elevato se lo andiamo a confrontare anche con il primo volume di Shirayuki. Un'evoluzione sotto ogni aspetto, adesso non vedo l'ora del volume 25, si conferma come sempre un ottimo manga shoji in corso. Andiamo avanti sempre con Star Comics, non abbiamo tantissime uscite, siamo d'altronde alla fine di dicembre. Continuiamo con Dragon Ball, volume 20 della Ultimate Edition con in copertina Freezer. Ne abbiamo parlato più volte nei video, è un'edizione fantastica, passiamo subito alla prossima casa editrice che è Kokonino Press. Per Kokonino ho fatto due recuperi, il primo è Inferno di Yoshiro Tatsumi, sto cercando di recuperare tutto il materiale portato in Italia di questo autore grandioso. Ovviamente uno degli autori più importanti della storia, il padre fondatore proprio del Gekiga. Sto cercando di recuperare tutti i volumi unici che ci ha proposto Kokonino per andarlo ad approfondire al meglio. Le sue storie ogni volta riescono a colpirmi per la crudezza e per il realismo con cui tratta i fatti. Inferno è uno dei pochi volumi che mi mancava e non vedo davvero l'ora di leggerlo, vi farò subito sapere il mio parere. Andiamo avanti sempre con Kokonino, con un volume della collana Doku, abbiamo La fidanzata di Minami. Manga seinen è scritto tra il 1986 e il 1987. Serializzato sulla storica rivista Garo è un manga che mi ha da sempre ispirato, che tratta del rapporto tra genitore e figlio, l'abbandono e la sessualità degli adolescenti. Lo fa con uno stile di disegno davvero particolare. Disegni molto semplici, puliti ma ultra espressivi. Davvero curiosissimo anche di leggere questo volume, sappiamo che la collana Doku ci sforna sempre delle piccole perle. Sono sicurissimo che anche La fidanzata di Minami non mi deluderà. Se qualcuno di voi l'avesse letto, mi raccomando, senza fare spoiler, mi faccia sapere il suo parere. Andiamo avanti ora con Planet Manga, dove troviamo volume numero 35 di Black Clover. Sono in pari con tutti i capitoli su Manga Plus. Devo ammettere che purtroppo non mi stanno piacendo, ma in generale è l'ultima saga che la trovo abbastanza confusionaria e con davvero troppi power up. Che spesso sono anche ingiustificati. Secondo me è l'ora di mettere punto a Black Clover. Deve indirizzarsi per forza verso una fase finale, sta venendo un po' tirato per le lunghe. Le due nuove edizioni uscite per Planet Manga sono quella di Yawara con il secondo volume e Ikaru no Go con il secondo volume. Infatti non l'ho ancora iniziato, considerando che avranno anche tanti volumi. Farò uscire almeno per ogni opera cinque volumi, poi mi metterò a leggerle e vedrò se continuare o meno. Cambiamo casa editrice e passiamo questa volta a J-Pop, con il volume numero 7 di Ice Guy and Cool Girl. Siamo incredibilmente arrivati al settimo volume. Diciamo che è un manga che funziona, anche perché rimane sempre divertente e anche in certi tratti toccante. Il vero problema è che è troppo lento. Lo sviluppo in generale della storia continua a convincermi poco. Per me poteva essere benissimo già una storia conclusa per come poteva svilupparsi. Sembra che ogni volta si prendi troppo tempo l'autrice per andare a sviluppare le cose. Comunque rimane sempre godibile. Siamo anche attualmente in pari con il Giappone, quindi chissà quando uscirà il prossimo e chissà cosa dovremmo aspettarci dal volume 8. E passiamo agli altri recuperi fatti questa settimana. Prima di tutto abbiamo una serie completa di flashbook, una miniserie, che mi fa completare quelle che sono tutte le opere uscite qui in Italia dell'autrice. Vi sto parlando di Setona Mizushiro con il suo X-Day. Un manga shoujo scritto da Setona Mizushiro nel 2002. E questa è in linea temporale l'opera più vecchia, tra virgolette, che ci è stata portata qui in Italia dell'autrice. Ha scritto anche ovviamente altri lavori che sono inediti qui in Italia anche negli anni 90. Ora posseggo tutte le opere di Setona Mizushiro, autrice estremamente sottovalutata, ha uno stile di disegno tutto suo, una narrazione tutta sua. Riesce davvero a diversificarsi come mangaka, è davvero bravissima. Vi ho parlato più volte ovviamente sul canale, tante persone si sono anche avvicinate a Setona Mizushiro e questo mi ha fatto davvero tanto piacere. Di X-Day ho sentito sempre degli ottimi pareri, mi aspetto una storia molto tragica e una storia soprattutto dura. So che va a toccare delle tematiche belle forti e non vedo l'ora di vedere proprio come l'autrice le vada a toccare. La leggerò nei prossimi giorni e vi farò sapere il mio parere su Instagram, tante aspettative. E questa settimana ho fatto un recupero importante per me, perché a questo mangaka non mi ero mai avvicinato, seppur conoscendo la sua grandiosa fama e l'influenza che ha avuto per il fumetto giapponese. Vi sto parlando di Leiji Matsumoto, ho recuperato due sue opere brevi. La prima è Storie di un tempo lontano, un volume unico pubblicato da Goen e ho recuperato anche Queen Emeralds nell'edizione di Hazard Edizioni, che va adattare l'edizione in quattro volumi originale giapponese. Ne è uscita anche una negli ultimi anni per J-pop in due volumi. Però sono riuscito a trovare appunto un set che comprendeva queste opere, quindi ho deciso di optare su questo. Sappiamo che purtroppo Leiji Matsumoto ci ha lasciati nel 2023. Un autore che sicuramente scoprirò troppo tardi, ma questo recupero è fatto anche in suo ricordo. Non poteva assolutamente mancare nelle mie letture, non poteva mancare nella mia collezione. Non vedo l'ora ora di leggere questo materiale e andarlo ad approfondire nel 2024. Se magari qualcuno di voi volesse darmi qualche consiglio nei commenti, se magari avesse letto più materiale dell'autore, mi raccomando fatelo e consigliatemi ciò che vale la pena subito recuperare per approfondirlo. Questa settimana ho fatto anche un piccolo recupero dal Giappone. È una monografia. In questi ultimi mesi ne sto leggendo tantissime di autrici che sono inedite qui in Italia per avere anche un approfondimento. In questo caso sullo shoujo manga, sulla storia del manga e sulle autrici che sono state ovviamente tra le più importanti ed influenti. Mi piace sempre scoprire la storia del manga e cose nuove. Oggi vi propongo la monografia giapponese di Hideko Mizuno. Quella che sta diventando piano piano tra le autrici più interessanti che io conosca. Se vi ricordate bene nei video acquisti del Giappone, avevo preso anche un suo volume firmato. Appena ho visto questa monografia che era disponibile, sono rimasto meravigliato e l'ho subito acquistata. Hideko Mizuno ha un'importanza nel manga fondamentale. È nata nel 1939 e la possiamo identificare tra le prime autrici dello shoujo di sempre. Ha debuttato nel 1955, è stata assistente di Osamu Tezuka. All'interno di questa monografia giapponese troviamo un'intervista lunghissima all'autrice, tutta la sua evoluzione in 66 anni di carriera, quando appunto è uscito questo volume. All'interno troviamo tantissime illustrazioni per farci comprendere al meglio il tutto. Partendo da quelli che sono i suoi primissimi lavori, le sue prime bozze, a quelli che sono poi i suoi lavori originali, con i suoi fantastici disegni. Veniamo anche a scoprire l'eredità lasciata da Tezuka proprio a Hideko Mizuno. Infatti è stata disegnata proprio come l'erede di Osamu Tezuka per quanto riguarda il target femminile. All'interno ci sono tantissimi aneddoti, tantissime illustrazioni fantastiche. Contributi speciali di Yukari Chijo, di Masako Watanabe, di Ryoko Yamagishi, altre autrici che hanno influenzato enormemente il fumetto giapponese. E due di queste, come Masako Watanabe e Ryoko Yamagishi, che fa parte del gruppo delle 24, sono inedite qui in Italia. Troviamo tutta la sua cronologia con tutte le sue opere in ordine cronologico. Troviamo anche un capitolo speciale, un one shot chiamato Flowers of the Night, che si può leggere tutto all'interno di questo meraviglioso libro. Ovviamente vengono definite per bene quelle che sono state le sue opere più influenti e le sue opere più importanti. Lo leggerò anche questo a brevissimo e ci farò un post su Hideko Mizuno anche su Instagram, dove faccio questi approfondimenti su autrici più di nicchia qui in Italia, ma che hanno avuto un'importanza incredibile. Quindi siamo arrivati alla fine di questo video a questi manga. Io vi faccio ancora gli auguri di Buon Natale. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento per i nuovi, iscrivetevi al canale per i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video!